E passiamo alla presentazione del team che accompagnerà Paolo Poddiga e verso la sua corsa alla presidenza nazionale dell'Affitarco. Un team innovativo, come ho scritto nel programma, abbiamo persone che rappresentano la continuità della federazione che hanno svolto questo ruolo insieme a me in questi ultimi anni e tanti personaggi nuovi per proiettare la federazione verso il futuro. Il primo rappresento è Stefano Tombesi, un imprenditore di Terni, consigliere federale delle ultime due legislature, responsabile e presidente della commissione campagna E3D e grande organizzatore di eventi internazionali. È arrivato alla conclusione del suo mandato costruendo un grandissimo impianto del tiroco all'arco, con una parte indoor e una parte outdoor, un impianto di eccellenza dedicato anche all'attività paralimpica e credo che sia un grande bigliettino da visita per un grande personaggio candidato al Consiglio nazionale, nel Collegio nazionale. Grazie a tutti!